La parola in 100 parole Commento il Vangelo del 10 marzo 2022 a cura di Fra Simone Dio è il desiderio di dare, siamo noi che non sempre siamo nelle condizioni di ricevere Ecco allora l'insistenza, il cercare, perché dall'altra parte c'è qualcuno che ci ha già fatto sperimentare l'amore da quando ci ha scelti Dio non può non rispondere, Dio è più grande delle nostre domande e desidera darci infinitamente di più di quello che chiediamo Solo che spesso noi chiediamo doni piccoli, a breve termine Dio vuole darci di più, noi chiediamo i doni e Dio vuole offrirci lo Spirito Santo, che non è il dono, ma è il donante Anche quando ci accostiamo all'Eucarestia, noi chiediamo qualcosa e Lui invece ci offre se stesso Buona giornata Questo commento è tratto dal canale Telegram, la parola in 100 parole Grazie a tutti Grazie a tutti